buongiorno buongiorno e benvenuti sul circuito di jerez della frontiera ancora pochi minuti di attesa e finalmente avrà inizio il gran premio di spagna classe moto gp il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per le gomme dure e chi invece per quelle morbide le camere della regia ci accompagnano in un tour tra i piloti favoriti per la gara della moto gp di oggi non possiamo fare pronostici ma giudicare dalle qualifiche molto combattute siamo sicuri che assisteremo ad un grande spettacolo grazie si gli Mancano pochi istanti all'inizio del Gran Premio di Spagna e i piloti sanno che sarà fondamentale affrontare al meglio la prima curva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.